La conferenza dei capigruppo ha fissato per martedì 25 settembre la prossima seduta del Consiglio Comunale, che inizierà alle 9 con il Question Time. Dopo 5 delibere di ratifiche di variazioni di bilancio, l'Aula esaminerà la delibera di iniziativa popolare proposta dal Comitato Promotore e una spiaggia per tutti. Sarà poi la volta di due deliberazioni di proposta al Consiglio, la prima dell'assessore Tommasielli per l'affidamento in gestione delle piscine comunali e la seconda degli assessori De Falco e Tuccillo sulla destinazione a sede di uffici e servizi dell'ex Tiberio Palace Hotel. Si proseguirà poi con tre deliberi di iniziativa consigliare, le prime due del consigliere Moretto sulle auto blu e sul recupero delle strutture ecclesiali e la terza del consigliere Mansueto sulla compensazione delle poste creditorie con le debitorie. Infine il Consiglio esaminerà l'ordine del giorno per l'intitolazione a Silvia Ruotolo di Salita Arenella.